Giulia ma io sento un rumore forse saranno pipistrelli boh che lo so pipistrelli Giulia idro pipistrelli fat fat 3 2 1 buongiorno ragazzi e ragazzi oggi siamo ricordati qui con un nuovissimo video in questo video si tratta dei pat to pat che sono i pipistrelli simpaticissimi ma che possiamo fare di così mi muovissimo allora ragazzi oggi ne apriamo 5 però la collezione è formata da 10 pat to pat questa viene qua e noi ne apriremo solo 5 se il video arriva a 2000 like allora faremo anche la seconda parte con gli altri 5 pat pat andiamo quindi io sono curiosissima ma poi qui c'è anche questo cominciamo dal video e dopo andremo a leggere su allora io vado ad aprire questo qui io vado ad aprire questo qui ragazzi questo qui a me sembra tanto amo no a me raga proprio quello da copertina a me ragazzi a me ragazzi questo qui sembra molto amo si molto solo perché eccellente ci stanno ci stanno ci stanno ci riesco allora devo capire quale la direzione la direzione devi capire è l'alto bravo la direzione lui si chiama punk se non mi sbaglio si chiama proprio punk lui si chiama rock roll e vediamo questi malicini apriamo il resto dai io questo io questo questo si dovrebbe chiamare dinner 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 guardate quanto è bella è gigante bevissima bevissima allora lui ma anzi si mantengono anche senza mattoncino giusto per fare la collezione è più carino però mantengono anche senza mattoncino raga raga questo è troppo bello perché c'è anche la boccetta non so forse il cioccolato perché c'è il cioccolato che cura non so forse il cioccolato non so forse il cioccolato non so forse il cioccolato e infine raga rimane la più bella quella che amo di più che dovrebbe essere una femmina è la testa ora ti casterò una canzone bellissima zucca lei si chiama gipsy io penso sia una femmina però non lo so apriamo io la prendo dai perché prendi il mattoncino qua questo mattoncino cade dentro raga è troppo bella guardate e ti ha giuli però non me la tira da mano è bellissima io la fisco si tiene gli orecchini la fisco ragazzi c'è punk c'è dinner gipsy rock n roll pumpkin che significa zucca allora ragazzi qui io ho fatto fare anche una bella acrobatia a lui bella bella guardate e ho pensato abbiamo pensato visto che in questa band questo gruppo abbiamo anche un cantante che è rock n roll facciamogli cantare una bella canzoncina ovvero la canzone del pipistrello ti entra in testa e ci rimane tutto il giorno un passo avanti un giro in tondo ci vestiremo tutti quanti da da pipistrello quindi 3 2 1 quindi ragazzi questo era il video spero vi sia piaciuto anno tantissimo iscrivetevi a instagram marghi julia su facebook marghi julia sul secondo canale marghi tv se volete le maglie le cover le tazze i cusci e tantissime altre cose e tantissimi altri colori andate su www.marghiulia.it e ricordatevi che io marghi lei giulia insieme a voi formiamo la magic family amore puro se il video vi è piaciuto lasciate like commentate iscrivetevi e condividete il video se non vi è piaciuto shhhhh